Ciao panciulli e panciulli, in questo video volevo farvi i miei auguri di Natale insieme a Carolina che ha appena mangiato e ha la panciotta piena, eccola qui c'è anche l'alce, c'è anche l'alce cecata che ormai è il suo regalo di Natale, gliel'ho appena regalato ce gliel'ho appena regalato qualche settimana fa la prima cosa che ha fatto ovviamente ha strappato gli occhi perché sono quelli duri e quindi li sgranocchia io sempre ovviamente sto lì a guardarla fissa e quando è riuscita sta uno per staccare appunto glielo pensi gliel'ho tolti comunque quindi noi due vi auguriamo tantissimissimissimissimi auguri di uno splendido Natale e in questo video finalmente vi farò vedere cosa avevo pensato di regalarvi per Natale quest'estate, dove devo andare, vado a andare giù? ecco, è qui sulle mie gambe quest'estate quando sono andata a New York avevo, volevo cercare qualcosa di speciale per voi ho pensato già di trovare proprio New York il vostro regalo di Natale e tra tutte le cose che avevo comprato la cosa in assoluto più bella che cos'era? era questa e quindi avevo pensato appunto di comprarne due una per me e una per voi quindi questo sarà il mio regalo di Natale ok? questo mese di regali appunto vi ho fatto regali un po' ovunque sia qui su Youtube che su Facebook che su Twitter che su Instagram vi ho fatto regali un po' ovunque ma il vero regalo di Natale era appunto questo un regalo pensato proprio portato oltreoceano per voi e quindi chi vuole ricevere questo mio speciale regalo di Natale questi 5 pennelli di Sonia Kashuk che appunto hanno questo manico disegnato ve lo faccio vedere uno che tra l'altro ho utilizzato per questo tutorial ed è così appunto sono morbidissimi e hanno questo manico in oro con questo disegno similpucci quindi se volete ricevere questo set di pennelli 5 pennelli di Sonia Kashuk vi basterà essere iscritti al mio canale scrivermi un messaggino qua sotto e io poi appunto leggetevi raccomando il box informazioni io sceglierò un commento e gli scopirò questo super bellissimo regalo di Natale pensato con il cuore proprio solo esclusivamente per voi e quindi vi auguro ancora uno splendido Natale da me e da Carolina e grazie grazie per seguirmi così con tanto affetto per le nuove scritte per le vecchie scritte per quelle che verranno e per questo altro anno passato in vostra compagnia ciao fanciule e fanciulli ciao e auguri ciao